Musica Buongiorno, benvenuti al nostro Tg del mattino, bagno di folla a Campobasso per la presentazione dei due candidati a sindaco del centrodestra per Termoli e per Campobasso. Nella cittadina adriatica il designato Nico Balice rappresenta la linea di continuità con l'amministrazione Roberti. Con Aldo De Benedittis invece la coalizione governativa tenta la conquista del capoluogo dopo il successo in regione. Sentiamo Pasquale Di Bello. Prova di forza del centrodestra che accompagna con un bagno di folla la presentazione ufficiale dei due candidati a sindaco di Campobasso Aldo De Benedittis e di Termoli, Nico Balice. C'è una doppia sfida che rappresenta per la coalizione al governo della regione l'occasione per stabilire una linea di continuità e una filiera istituzionale col governo del paese. L'immagine sfocata dei giorni scorsi si è trasformata in uno scatto limpido che ritrae tutti i leader di partito stretti attorno ai candidati. Ad Aldo De Benedittis il compito di espugnare il capoluogo di regione. Non ho tessere di partito ribadisce l'interessato proprio per rafforzare lo spirito unitario che ha portato alla sua scelta. Siamo tutti d'accordo, sono tutti d'accordo con me. Loro sanno che io non ho tessere di partito per cui sono il candidato sindaco della coalizione ma non di qualche partito in particolare. Per cui loro sono tutti concordi, sono confluiti sul mio nome per cui dobbiamo adesso solo darci da fare perché i tempi sono ristretti e dobbiamo muoverci in questi cinque anni per dare veramente qualcosa di bello alla città di Campobasso anche perché io non mi devo né ricandidare né niente la prossima volta quindi sgompriamo il campo da qualsiasi problema. La candidatura di Nico Balice, assessore all'urbanistica nella cittadina adriatica, rappresenta a Termoli una scelta di continuità con l'amministrazione Roberti. Continuità è una parola che mi piace molto anche perché siamo pronti a realizzare i progetti che il nostro sindaco Roberti ha messo in campo prima di diventare presidente della regione. Quindi realizzeremo quei progetti urgenti che possono essere la delocalizzazione del depuratore piuttosto che i parcheggi che da noi d'estate diventano un problema molto serio. E continueremo a progettare sempre in continuità anche perché abbiamo la vicinanza del governo regionale e del governo nazionale. Soddisfatto per il lavoro svolto il presidente della regione Francesco Roberti, un doppio successo per lui a cui si deve l'indicazione di entrambi i candidati alla carica di sindaco. Una scelta rispetto alla quale la coalizione ha risposto con un'adesione convinta e robusta. A Campobasso si è chiuso dopo una sana riflessione. Innanzitutto, l'ho sempre detto, ribadisco e ringrazio tutti coloro che si erano proposti candidati, che avevano delle legittime aspettative ma che hanno dimostrato anche grande senso di appartenenza e maturità politica di fare un passo di lato nell'interesse di una coalizione che oggi può andare tranquillamente ad affrontare una campagna elettorale qui a Campobasso. Siamo convinti di poter vincere perché abbiamo scelto un candidato che ha una persona come figura di grande spessore politico ma anche di grande spessore professionale, una persona moderata e che ha garantito quella sintesi importante per creare quell'entusiasmo giusto per una campagna elettorale. Ecco invece a Termoli una scelta nel segno della continuità. Nico Balici è un amministratore uscente che ha lavorato con lei. Nico Balici è una persona di mia fiducia ma questo non vuol dire che non lo siano anche gli altri ma in questo momento importante era fondamentale trovare la sintesi anche qui su una persona che si è sempre mostrata disponibile con tutti, che non ha avuto assolutamente alcuna frizione con gli altri anzi è ben voluto da tutto il gruppo di maggioranza uscente e quindi credo che anche lì ringraziamo per esempio il vice sindaco uscente Vincenzo Ferrazzano che è stato il mio vice sindaco, è stato a fianco a me e che ci ha in qualche maniera accompagnati in un lungo percorso amministrativo anche lui ha fatto un passo di lato e abbiamo scelto l'avvocato Nico Balici è una persona ben voluta a Termoli. Quando le scuole non riescono ad andare a Telemolise allora è Telemolise a recarsi nelle scuole è quello che è successo nell'aula magna dell'istituto Principe di Piemonte a Termoli dove il direttore Emanuela Petescia ha potuto svolgere una lezione di giornalismo televisivo grazie anche alla elevata tecnologia offerta dalla struttura. Il servizio è di Dalila Catenaro Quando è che una persona può essere considerata o diventa una bella persona? Questo è l'interrogativo di base da cui è partita la lunga lezione di giornalismo televisivo che si è svolta a Termoli con le quinte classi della scuola primaria dell'istituto Principe di Piemonte Il punto di partenza è infatti il concetto del bello che va in onda in televisione Bella presenza, bella voce, gestualità, padronanza della lingua italiana, sintesi dei testi scritti, scelta delle immagini, montaggio Un lungo percorso che tuttavia svela lentamente e soprattutto concretamente un esempio dopo l'altro, una prova dopo l'altra cosa deve intendersi con il termine bello, tanto nel mondo televisivo quanto nella vita di tutti i giorni La cultura, prima di tutto, poi la gentilezza, l'altruismo, la solidarietà e la calma Si diventa leader nei rapporti con gli altri e nelle performance televisive, ha detto il direttore di Telemolise Emanuela Petescia quando si è colti, generosi, capaci di gestire le emozioni e capaci di controllare la collera Tutto il resto, essere alti o bassi, magri o in carne, con gli occhi azzurri o castani e i capelli biondi non ha alcun valore se mancano quelle qualità umane E così i ragazzi entusiasti e motivati si sono cimentati alla fine nell'arte dell'intervista E tutto questo è stato possibile grazie a un laboratorio tecnologico, quello della Scuola Principe di Piemonte così avanzato e di qualità da consentire il trasferimento, armi e bagagli, della televisione nell'istituto Il giornalista televisivo lavora solo con la scrittura? No, lavora anche con la voce e con le immagini Ci troviamo nella Scuola Principe di Piemonte a Termoli dove c'è svolta una lezione di giornalismo televisivo Vediamo com'è andata Allora, è stata interessante e proverò a mettere in pratica alcuni suggerimenti Ti piacerebbe un giorno diventare giornalista televisivo? Sì, mi piacerebbe molto È un bellissimo lavoro Buon vero, cari amici di Telemolise Ben trovati in questa edizione del telegiornale Adesso vi do il servizio Ti è piaciuta questa lezione di giornalismo? Sì, mi è piaciuta molto Secondo me è stata molto interessante e anche molto costruttiva Il giornalista televisivo scrive soltanto? No, deve anche saper usare la voce e le immagini Oggi c'è stata una lezione di giornalismo televisivo, ti è piaciuta? Sì, mi è piaciuta molto e ho scoperto che i giornalisti devono anche saper usare la voce e le immagini Ci troviamo nella Scuola Principe di Piemonte e abbiamo fatto una lezione di giornalismo Ti è piaciuta? Sì, mi è piaciuta molto e spero di rifarla Ti piacerebbe un giorno diventare un giornalista televisivo? Sì, mi sembra un lavoro interessante Quindi farai la giornalista? Forse sì Bene, è stata molto interessante Io sono un'insegnante di italiano, quindi con i bambini abbiamo affrontato il testo giornalistico E quindi abbiamo parlato dell'articolo di cronaca e tutto ciò che è collegato al concetto di giornalismo Quindi loro erano già abbastanza formati Inoltre io mi occupo anche di tecnologie, quindi tecnologia abbastanza avanzata I bambini hanno comunque risposto alle domande della direttrice in maniera molto molto spiccata Preside Rosanna Scrascia, si parla di innovazione nel vostro istituto Una lezione di giornalismo televisivo, è segno dei tempi che vanno avanti? Innovazione nella didattica adesso praticamente è stesa a tutte le classi In particolare le classi quinte che hanno partecipato a questo intervento di giornalismo Oggi sono già molto preparate sotto questo punto di vista Abbiamo la possibilità con molti fondi ministeriali che ci sono arrivati Anche di fare acquisti tecnologici Anche quest'aula che vedete è stata arricchita da varie strumentazioni digitali Strumentazione che ha davvero permesso una lezione frontale oggi con i ragazzi di quinta elementare? Certo, perché come avete potuto vedere tutte le classi sono dotate di questi monitor interattivi Tantissimo materiale che era impensabile in una scuola primaria fino a pochi anni fa E tutto termina qui il nostro Tg del mattino, adesso la rassegna stampa Vediamo come titola il giornale del Molise.it in regia c'è Armando Orillo Lega Molise-Casanova-Troppia-Dil, commissario regionale spieghi cosa sta accadendo Prova di forza del centrodestra, coalizione unita attorno a De Benedittis e Balice E De Benedittis, il candidato sindaco del centrodestra per Campobasso Dice la mia candidatura, espressione della coalizione, nessuna appartenenza partitica Arresto in flagranza di un minorenne in Basso Molise responsabile di diversi reati Poi neve a Capracotta e Campitello, temperature fino a 3 gradi sotto lo zero anche in Molise Torna l'inverno Polizia penitenziaria in sciopero della fame, la solidarietà di Aldo Patriciello Poi al Neuromed la Spine School dedicata alla chirurgia spinale cervicale Rendi conto bocciato dalla Corte Costituzionale Iacovino, l'avvocato Iacovino dice emerge una catena di falsi Sabbie mobili festival, ecco i primi ospiti, Tony F e The Night Skinny Frontale sul rivolo, tre persone trasportate in ospedale Stellantis ACC presentata la prima bozza di protocollo d'intesa Scuola di Ripalimosani, il Ministero impugna la sentenza del Tar, il Comune dice continueremo con decisa calma La Guardia di Finanza festeggia a Campobasso i cento anni del maresciallo Carmine Peccia Poi Capracotta, fondi pubblici negati alla pezzata, Paglione attacca la Regione e altre notizie sul giornale del Molise.it Vediamo adesso come titola informamolise.com Ci sono le notizie nazionali ma anche quelle regionali La consulta boccia del bilancio 2021 Romano, il consigliere di costruire democrazia interviene sul punto Poi amministrative De Benedittis e Balice sono i candidati sindaci per il centrodestra di Campobasso e di Termoli E poi mobilitazione nazionale di educatori ed educatrici per la CGL Funzione pubblica Molise-Abruzzo E poi si parla di Stellantis e Isisi interviene la capogruppo del Partito Democratico in Regione La Salvatore E poi le altre notizie su informamolise.com Vediamo adesso come titola News della Valle Alto Sangro Ci sono le notizie che ovviamente riguardano la politica con Vincenzo Niro E dice De Benedittis e Balice candidati forti e di spessore ideali per la coalizione Poi ancora in pianti di videosorveglianza arriva l'ok del Comitato Ordine e Sicurezza della provincia di Isernia La realizzazione di nuove infrastrutture Polizia penitenziaria in sciopero della fame Messaggio di Patriciello al segretario di Giacomo Poi intensificati i controlli della polizia sul territorio della provincia C'è nella città di Isernia fascicolo sanitario elettronico sempre più vicino ai cittadini online Nuovi importanti servizi E poi ciclismo La molisana Noemi Lucrezia Eremita nella selezione del K2 Woman Team per il giro del Mediterraneo in Rosa E poi ci sono tutte le altre notizie su News della Valle Alto Sangro Vediamo adesso invece come titola Oppi Molise Oppi Molise comunali 2024 Il centrodestra molisano presenta i candidati sindaco di Campobasso e Termoli E poi dopo nell'articolo foto e interviste Campomarino e i carabinieri inseguono e restano minorenne L'auto risulterà rubata a Termoli E Sanità nove pazienti su cento rinunciano Alle cure e ancora le dichiarazioni di Niro sulle comunali De Beneditti Sebalice candidati forti e dispessore ideali per la coalizione E concorso musicale Montini sempre Niro Dice serata bellissima fondamentale diffondere la cultura e l'arte tra i giovani E poi tutte le altre notizie su Oppi Molise Vediamo adesso come titola Primo piano Molise il quotidiano del Molise De Beneditti Sebalice Il centrodestra punta al colpaccio con due avvocati La coalizione al completo presenta i candidati sindaci di Campobasso e Termoli La mission dichiarata è ricomporre la filiera istituzionale Il rival adriatico si scommette sulla continuità nel capoluogo La sfida è riconquistare il municipio dopo dieci anni E poi ci sono le altre notizie Patti sociali ed empori solidali Le misure per combattere la povertà Maria Luisa Forte illustra il pacchetto per aiutare chi è rimasto indietro A Termoli centrosinistra pezzi Ipotesi cinque competitor per il comune Regione e commissione sprint licenziati Gli atti di bilancio manovra ora passa in aula Vediamo poi il punto di Umberto Berardo Tante mistificazioni sulla guerra Dunque una riflessione E poi altre notizie ancora Isernia un milione per chiudere un occhio L'ex direttore delle entrate condannato anche in corte d'appello Campomarino ruba un'auto Sperone i carabinieri fugge a piedi E reagisce alla cattura minorenne in manette Campobasso scontro fra due auto sulla Fondovalle Rivolo Tre feriti portati al pronto soccorso E poi Campobasso la guardia di finanza Festeggia i cento anni del maresciallo Peccia Durante la seconda guerra mondiale fu prigioniero dei tedeschi Dunque la cerimonia al comando regionale a Campobasso Per quanto riguarda le notizie di sport in taglio alto Campobasso il nuovo socio Daniel Hall Portare la squadra in C ed oltre Pallavolo per gli Spike Devils Big Match Genzano Europea 92 per il riscatto Pallacanestro Magnolia chiusura di Regular Season in casa della Virtus Bologna Vediamo adesso informamolise.com con l'editoriale firmato da Pietro Colagiovanni Che è titolato così Un mondo senza traduttori e anestesisti E dunque Colagiovanni dice che qualche giorno fa parlava con un amico Che non vive in Italia Che gli parlava di come avesse pensato per la propria figlia Un percorso di studi nel settore delle lingue Come il papà d'altronde che proprio grazie a questa sua specializzazione Aveva intrapreso una florida attività all'estero in questo caso Però scrive Colagiovanni Mi sono permesso di sconsigliarglielo Perché l'età in cui viviamo In cui soprattutto vivono i nostri figli È radicalmente diversa da quella in cui abbiamo vissuto noi E c'è tutta una riflessione Che fa Colagiovanni E che si può leggere all'interno di informamolise.com I quotidiani nazionali Adesso vediamo come titola La Repubblica Unione Europea Via l'aborto dal PNRR Governo in difficoltà La Commissione Europea interviene Sull'emendamento inserito nel piano di ripresa Che apre i consultori ai pro vita La rabbia del Ministro Fitto La mossa di Fratelli d'Italia Mette a rischio i progetti Sulla sanità Nuovo scontro Meloni Schlein Il padre di Ilaria Salis Se eletta sarà libera E Orban non potrà opporsi Ci sono varie riflessioni E poi colpita una base militare A Isfam Teheran Minimizza Iran L'attacco soft di Israele E c'è questa foto Con una manifestazione contro Israele Poi Napoli 2024 Il Mediterraneo Laboratorio di Innovazione Al Via Repubblica delle Idee E ci saranno ospiti Schlein Conte, Prodi E tanti altri Si parlerà di intelligenza artificiale Anche musica, cinema E futuro dell'Europa Ci sono vari commenti All'interno poi della Repubblica Vediamo il Corriere della Sera Il Corriere della Sera Titola così Israele attacca l'Iran Ma non forza Colpita la base militare A Isfam Teheran minimizza Poi avverte Basta errore Il G7 Ridurre le tensioni Rappresaglia limitata E senza vittime Gli Stati Uniti Non siamo coinvolti Nella notte Bombardata in Iraq La sede delle milizie Filo Ayatollah E poi Anche qui ci sono Vari approfondimenti Gli Stati Uniti Al voto sugli aiuti Chi chiede armi La Nato decida Se siamo alleati E poi ancora Il sondaggio Fratelli d'Italia Sale al 28,5% Cresce il PD Frenano i 5 Stelle Forza Italia Stacca la Lega Poi l'aborto Nel decreto PNRR L'Unione Europea Prende le distanze Diritti Vespa Un caso Dibattito TV Al maschile E poi Bari Un nuovo fronte Per fuga di notizie Il nome di Emiliano I verbali di Pisicchio E dunque Si parla dell'inchiesta Vediamo adesso La prima pagina Del Fatto Quotidiano Il Fatto Quotidiano Che titola così Chi è nato Nuove armi Meloni Studia il nono decreto Ma Crosetto Dice Già dato Ciò che avevamo Gli arsenali Sono vuoti Stoltenberg Annuncia L'ennesimo invio L'Ucraina Ci chiede Le difese aeree Rappresaglia silenziose Senza vittime Israele attacca Impianti nucleari In Iran Ma parla Di una regia Di agenti locali Silvana Arbia Bisogna cercare Le prove L'ex PM Dell'AIA Sul genocidio 40 paesi Contro Putin E solo 5 Contro Netanyahu Vediamo poi Le altre notizie Per i colletti bianchi Amnistia permanente Intercettazioni PM Frustace Pinto Poi Indagini e dimissioni Pisicchio In Guaia Emiliano Dice Fu lui ad avvisarmi In chiesta Santanchè Kunz Dice È illecito finanziamento Un milione A Daniela E poi ci sono le altre notizie Sul fatto quotidiano Vediamo adesso La stampa Aborto L'Unione Europea Contro l'Italia Norme strane Al PNRR Taglia la sanità Parla il presidente Dell'istituto superiore di sanità Troppe falle Spesa da razionalizzare Bruxelles Non si torni indietro Tensioni Fratelli d'Italia Lega Timori per il voto Al Senato E poi Vediamo le altre notizie C'è la lettera Io Liliana Segre Linda e l'immondizia razzista E c'è la lettera appunto Di Liliana Segre E poi il reportage Tra gli sfollati libanesi Beirut Nuova Gaza Trent'anni dalla scomparsa Della Pozzi Parla sua madre Racconta La mia Moana Vediamo adesso Come titola il manifesto L'arma del relitto Il titolo Il fatto non sussiste Tutti i prosciolti Nel maxiprocesso Alle ONG Il giudice di Trapani Mette fine Ad anni di bugie E processi politici Che hanno cambiato Per sempre I soccorsi in mare E anche la nave Juventa Sequestrata Nel 2017 Va restituita Ma ormai È un costoso Ammasso Di ruggine Poi tre piccoli droni Su una base vicino a Isfahan Che Israele non rivendica E Teheran minimizza Miniattacco all'Iran E ora trema Rafa Docenti schierati con gli studenti Dai rettori Acrobazia politica È il virgolettato Poi ci sono le altre Notizie Gli approfondimenti Sul manifesto Adesso vediamo Il messaggero La prima pagina del messaggero Anche qui Iran La tregua Dopo L'attacco Regionale in Basilicata Domani e lunedì Meloni Salvini e Tajani A potenza Più infrastrutture E meno sussidi I timori per la risposta Dell'Ungheria L'avvocato di Salis Immunità certa Se eletta Ilaria Sarà subito Scarcerata E poi Piano super bonus Saldo in dieci anni Per tagliare il debito Governo pronto Ad allungare i tempi Per usare i crediti Impostasi Fino a 34 miliardi Di risparmi Avvenire il quotidiano Dei vescovi Anche qui c'è questa notizia Naufragio di un teorema Prosciolti tutti gli imputati Della nave Accusati di favoreggiamento Dell'immigrazione Clandestina Il caso su cui I ministri Minniti Salvini E Piantedosi Hanno costruito La criminalizzazione Dei soccorsi in mare Scrive Avvenire Un poliziotto Era stato infiltrato A bordo Ma dicono i giudici Di Trapani Dopo sette anni Di indagini Non ci sono prove Di traffici Anche su questa cosa Su questa notizia C'è Ci sono Vari approfondimenti E poi Regionali In vantaggio Il centrodestra Di Bardi Al voto La Basilicata Che trascura I giovani E poi Da Francesco No A riforme Divisive L'incontro Del 25 aprile A Napoli La pastorale Del noi Per le persone Disabili Vediamo Come titola Libero Scandalo Pd in Puglia Emiliano Deve dimettersi L'ex assessore Conferma Il governatore Era stato Avvisato In anticipo Dalla procura Delle indagini Sul suo uomo Ha usato Informazioni Riservate Ha negato E ha mentito Meloni In Basilicata L'opposizione Simpatizza Con chi assalta La polizia E poi C'è Mario Secchi Nell'editoriale Che scrive Giuseppe Conte Michele Finiti Finiti sul fondo Sul fondo Della palude Mediatica Conte Ed Emiliano Poi Le critiche Sull'andamento Della guerra Tutti al mare A Gaza Polemica In Israele Folla A Gaza Sulle spiagge Le immagini Sono state Riprese Dai media Israeliani Suscitando Discussioni Sui social Il veto Palestinese Sugli ebrei Al 25 aprile Il diktat Niente Simboli Sionisti E poi Da Provenzano A Bonafoni Ecco i dem Finanziati Dal vice Di Soros Salvini Rivela Paliggi E Berlino Non volevano Farci Votare Vediamo adesso Come titola Il secolo D'Italia Fisco Sanità Conti pubblici Non venite a farmi La morale È il titolo Dell'editoriale Editoriale In virgolettato E c'è la foto Di Giorgia Meloni Vediamo poi Come gli altri titoli In primo piano Del secolo D'Italia G7 Fermare L'escalation Possibili nuove Sanzioni All'Iran Superbonus Devastazione Senza precedenti Sui conti Rai Figuraccia PD Che attacca Porta a porta Sull'aborto Il sole 24 ore FMI Italia Francia E Belgio Sono sorvegliati Speciali Sul debito Pubblico L'analisi Sull'Europa Servono Una spesa Più efficiente La riduzione Delle agevolazioni Fiscali In serata L'agenzia Standard & Poor's Ha confermato Il rating E l'outlook Del debito Italiano Poi effetto Boomerang Aspettative Falchi E Colombe Costruzioni Senza bonus Calo Del 3,9% A febbraio Prima flessione Delle costruzioni Dopo 4 mesi consecutivi Di crescita C'è dunque Questa frenata Record Questa inversione Di tendenza Gelata Sulla domanda Di chip Prime tensioni Tra TSMC E NVIDIA E poi ci sono le altre notizie Sul sole 24 ore Vediamo adesso La gazzetta Dello sport Il Milan Ha già deciso Pioli E finita Dunque In evidenza C'è questa notizia L'ira di Cardinale Dopo l'Euroflop Non basterà Vincere il derby Quattro stranieri Per la panchina Fonseca E Lopeteghi Favoriti Nella rosa Anche Galtier E Gagliardo E poi Febbre Inter Da Cialanoglu A Di Marco Derby A tutti i costi E poi Juve A metà Max Sinfuria Cagliari Avanti Con due rigori Perla di Vlaovic Su punizione E poi 2 a 2 Su autogol Allegri Dice All'intervallo Avrei dovuto Cambiarne 11 In verità Dice Avrei dovuto Cambiare anche Me stesso E sono Tanti anche I tifosi Che vogliono L'esonero di Allegri Altri invece Lo difendono Dunque in casa Juve Si parla anche Di questo Per il futuro Con Atalanta Roma e Fiorentina Italian League Euro più Conference Perché si può Fare E poi vediamo Ci sono le altre notizie Sulla gazzetta Dello Sport La Ferrari Risparmia le gomme E scommette Sul Gran Premio Formula 1 In Cina Dopo lo sprint Qualifiche Alle 9 Con la gazzetta Dello Sport Termina la nostra Rassegna stampa Il prossimo appuntamento Con l'informazione Di Telemolise Come sempre Alle 14 in diretta Con il Telegiornale Buona giornata